Continua la caccia a garanzie e rassicurazioni in vista dell'approvata realizzazione del biolaboratorio in zona torraccia conseguente al trasferimento e ampliamento dell'istituto zooprofilattico Togo Rosati attualmente collocato a Villa Fastigi. Un'alienazione di terreno sulla torraccia avallata dal comune di Pesaro. Dopo la creazione di un comitato che si è opposto a questa realizzazione sono arrivate le rassicurazioni ribadite a più riprese dallo stesso direttore dell'istituto Vincenzo Caputo. Prima la commissione ambiente del comune di Pesaro poi la commissione sanità della regione Marche presieduta da Nicola Baiocchi. Ora il caso arriverà fino alla camera dei deputati. A portarcelo è il parlamentare pergolese di Fratelli d'Italia Antonio Baldelli che ha presentato una interrogazione ai ministeri di salute e ambiente. Per Baldelli le rassicurazioni che si stanno susseguendo non combaciano con adeguata trasparenza sulla vicenda e le preoccupazioni di cittadini e comitato sarebbero giustificati considerando che la tipologia del laboratorio in questione è in grado di garantire sperimentazioni e manipolazioni in vivo e in vitro di agenti virali pericolosi per la salute. Dall'altro canto l'istituto zooprofilattico ha invece più volte garantito l'assenza di sperimentazioni al di là del trattamento di animali di piccola taglia sospetti di patologie da contenere. Ora Baldelli porterà la vicenda a livello statale per gli approfondimenti di trasparenza presumibilmente definitivi.